Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento il regolamento di un gioco di corse che mi sta apprendendo veramente tantissimo e di cui abbiamo anche registrato un episodio su Tabletop Simulator che se riesco a montare in maniera carina e tutta lo porto, se no comunque ne faremo un altro o forse lo giocheremo anche direttamente in live. Vi parlo di Gaslands, famosissimo gioco di corse che ha ricevuto una nuova edizione in questa versione Refueled che vedete qui davanti, edizione italianissima a cura di Labmasu che ringrazio immensamente di cuore per avermi fornito il regolamento del gioco, tutti quanti i trei che vedete qui davanti per il movimento delle auto, i dadi che sono i dadi proprio quelli ufficiali del gioco di Gaslands che potete giocarlo anche con dei semplici dadi da 6, questi sono molto più fighi, e poi qui davanti ho una rappresentanza di auto della Hot Wheels e anche della Matchbox che vi presenterò a breve per darvi appunto anche un consiglio per l'acquisto. Dopo la sigla. Gaslands Refueled, in questa edizione italiana a cura di Labmasu, è un gioco di corse in ambientazione Mad Max, quindi già parti da un contesto bellissimo, parti da un'ambientazione tanto famosa anche recentemente visto al film che è uscito, quello sulla storia di Furiosa, ed è un'ambientazione molto caratteristica perché è proprio l'apice del, se vogliamo, del post-apocalittico. Abbiamo ambientazioni bellissime come, volendo, Stalker o anche altre famosissime come Fallout, però sono tutte quante derivate da Mad Max. Infatti, se andiamo a vedere lo stesso Kenshiro, come vestite e tutto quanto, è una raffigurazione appunto di Mad Max, o comunque un tributo a un film che ha fatto la storia in quegli anni ed è stato veramente, veramente spettacolare un capolavoro. E in questo gioco, in Gasland, voi dovrete andare a costruire il vostro team di auto e andare a gareggiare in queste gare appunto post-apocalittiche con delle auto non soltanto bolidi della strada, ma auto armate fino ai denti, quindi mitragliatrici, gatling, cannoni, bomba a mano, torrette e quant'altro, in un gioco che ricorda un po' ad esempio titolo per PC Crossout, mi viene in mente. Il regolamento del gioco è molto semplice, per quanto questo è un wargame, quindi non è un wargame dove trovate una scatola di partenza con dentro tutto l'occorrente. Voi qui comprate unicamente il manuale, poi tramite il sito della Labmasu potete, e secondo me dovete, ordinare il set dei dadi e ordinare anche i tre di movimento che servono per forza. Senza i dadi si gioca, perché basta il dado da sei, senza questi no. Anche perché, come vedete qui davanti, ho una rappresentazione di un po' di auto della Hot Wheels, pagate un euro e cinquanta l'una, quindi secondo me sono perfette, piuttosto che stamparle in 3D o prendere macchinine magari brutte, prendetevi quella della Hot Wheels che sono tranquillamente in scala e poi tra l'altro si muovono anche, se volete fare una cosa più carina per spostarle. Quindi è veramente bellino, a parte che non abbiate un tavolo in pendenza, perché se no vi conviene attaccarti sotto una basetta. Comunque, un euro e cinquanta l'una, due euro al massimo, li trovate in tanti negozi, tipo anche questo ho preso un'auto della polizia, e il regolamento vuole che quando noi andiamo a costruirci un team dobbiamo scegliere anche uno sponsor, e ci sono vari sponsor, tipo ci sono quelli dei classici Predoni Riders, quello dello sponsor basato sulle corse, lo sponsor della polizia autostradale, perché per quanto è un'ambientazione apocalittica c'è ancora un pochino, bene o male, forse rare fatta di società, però comunque un po' di lore anche all'interno c'è. E le cose importanti sono questi trei del movimento, che ora vedete a video. Su ciascuno dei trei ci sono sempre scritti dei numeri, che sono le marce a cui potete andare come velocità per usare quel tipo di trei, e sotto dei simboli. Se c'è un triangolino vuol dire che è una manovra difficile e perderete direttamente un segnalino pericolo, se invece c'è il simbolo di un cambio vuol dire che è una manovra molto facile e avrete un cambio in più, quindi un cambio gratuito. Ad esempio, come vedete ora, questa manovra qui, che è quella lunga, se la voglio fare devo andare per forza a velocità 5 o 6, per forza. Quindi questa manovra lunga così non la posso fare in marcia 1, 2, 3 e 4, perché andrei troppo piano. Se voglio fare un movimento con questa, la devo fare per forza di cose con la macchina in questione, quindi con la velocità, scusate, la marcia in questione. E per fare un movimento si mette sempre il trei di movimento davanti alla macchina e ci si muove perpendicolarmente, non si può curvare né niente. Ci si muove perpendicolarmente fino alla base opposta. Nel caso si tiri un valore di dado particolare, come c'è segnato qua sopra, che dà una sbandata, come vedete c'è una scanalatura su ogni trei di movimento. Bisogna prendere la sagomina della sbandata, andarla ad unire nel punto della scanalatura e poi mettere la macchina in fondo, girata perpendicolare appunto rispetto al senso della sbandata, in un rettilineo. Nel caso la sbandata fosse avvenuta come qui durante una curva, vedete che la scanalatura è qui, quindi andava inserita la sbandata qua giù e la macchina sarebbe sbandata così. Quindi invece di andare avanti fin qua giù, nel suo movimento sarebbe partita da qui e sarebbe arrivata esattamente qui. Ed è una cosa importante. All'inizio di ciascun turno si vanno a tirare tot dadi, a seconda dell'handling oppure della manovrabilità della macchina, di solito è quattro per un volide, perché ci sono diverse auto. C'è la classica auto, muscle car, ci sono addirittura cari armati, moto, elicotteri, si può gareggiare anche con un elicottero, cioè di tutto. E all'inizio si vanno a tirare dadi se li vogliamo tirare. Il dado come risultato dà sempre un cambio, che il cambio serve per incrementare o scalare di marcia, o levare un segnalino pericolo. Poi c'è il risultato di rischio, ti prendi un segnalino pericolo se non l'annulli. La sbandata, che è quella che abbiamo visto poco fa, e poi c'è un'altra importantissima, che è la derapata. La derapata è una cosa positiva, per quanto da anche questa un simbolo di pericolo, perché se noi vogliamo fare una manovra e girare un po' la macchina, ci serve la sbandata, perché se io metto questa manovra e vado fino a qui, mi posso muovere così. Devo sempre stare perpendicolare, non posso muovermi e girare un po' lo sterzo. Con, invece, la derapata, posso direttamente andare in fondo e girarla fino a 90 gradi. Quindi posso decidere, magari, se arrivo qua giù in fondo, scusate, a 45, se arrivo qua giù in fondo, posso decidere comunque di ruotarla un po' in questa direzione o quest'altra. E quindi perlomeno cerco di non andare contro un moreto, non andare contro un'altra macchina. Ci sono le regole, poi ovviamente non è un gioco, cioè non è soltanto un gioco di corse, è un gioco che vince chi taglia il traguardo o chi rimane in vita, perché tutte quante le auto che io non ho ancora modificato, ma saranno armate. E per armarle dovrete spendere, la moneta in questo gioco apocalittico, che ci sta anche bene a livello di lore, è la benzina, le tanniche di benzina. Quindi dovrete spendere queste tanniche di benzina in vostro possesso per armarle. Magari mettendo una Vulcan sul tettino, un lanciafiamme sul retro, quindi potete armarle come vi pare e quando andate ad attaccare un'altra macchina si tira ovviamente il dado da 6 per vedere se la macchina è stata colpita, se la macchina è colpita si fa un tiro per vedere se schiva. Più veloce va, più difficile colpirla. Poi le regole ovviamente non sono qui per farvi un tutorial, le regole c'è molto di più all'interno del regolamento, però comunque sono il gioco. Compensivamente è un gioco di corse dove ci si può anche sparare, si mettono i tray, per usare il tray dovete andare alle velocità descritte sul tray, quindi questa potete andare a 1, 2, 3, dove 1 è una manovra facile, quindi vi regalo un dado, invece di tirarne 3 ce ne avrete 5 gratuiti, cioè avete un cambio gratuito, e poi 3 invece, se andate a velocità 3, vi dà direttamente un pericolo. Quando arrivate a 6 segnalini pericolo, andate in testa a coda. Quindi uscite, perdete la velocità, tornate a marcia 1, e quelli altri vi passano. Quindi il gioco è riuscire a gareggiare, non farsi distruggere, e non prendere più di 5 segnalini pericolo, perché al sesto si va in testa a coda. Concludo dicendo che questo Gaslens, in versione italiana, e soprattutto nuova edizione Refueled, è un titolo veramente, ragazzi, spettacolare. Ci giocano molto all'associazione dei marini di Pisa, si stanno organizzando, hanno fatto anche il gruppo Arcella e Malapietra, che tra l'altro saluto, e spero di giocarci con loro quanto prima. E ci abbiamo fatto anche una partita sul tabletop, che se riesco, ve la carico direttamente la mondo, se no appunto ne faremo un'altra in live, per farvi vedere come funziona. Se cercate un gioco di corse di auto a basso costo, dove finalmente, davvero con 6 euro, 7 euro, vi comprate 4, 5 hot wheels, bellissime, dettagliate, come vi pare, e vi siete fatti la banda per correre, è veramente spettacolare, ragazzi, ve lo consiglio, e se lo volete ordinare, il regolamento, i trei e i dadi, non le macchine, primo link è in descrizione, dal sito della Lab Masu, che io ringrazio di cuore, per avermi offerto tutte queste cose. Dateci un'occhiata, perché se cercate un gioco di corse, in ambientazione Mad Max, vi farà veramente perdere il capo, ed è molto, molto divertente. Ciao, alla prossima!